Spazio ora ad una storia importante e significativa, quella di treppiedi. Si chiama così il lupo resiliente dei Sibillini. Il lupo che è riuscito a sopravvivere in natura pur avendo un vistoso handicap alla zampa posteriore sinistra. Tutto questo grazie all'intervento di operatori specializzati. Vi riassumiamo la storia in questo filmato e poi ne parliamo con il prossimo ospite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una storia che può insegnarci tantissimo. Ringraziamo l'occhio nascosto dei Sibillini che ci consente attraverso le immagini di introdurvi appunto questo racconto insieme a Stefano Ciocchetti, guida ambientale ed escursionistica. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Come possiamo riassumere a parole la storia di treppiedi? Allora la storia di treppiedi è una storia esemplare di resilienza come hai detto te e di resistenza perché parliamo di un animale che nonostante un grave handicap fisico, ora racconteremo come, è arrivato a sopravvivere e a resistere a quello che è la natura più selvaggia. Chi si è accorto di lui? Allora ci siamo accorti con il nostro team dell'occhio nascosto dei Sibillini attraverso la quale cerchiamo di monitorare quella che è la fauna selvatica principalmente dei monti Sibillini ma l'appennino centrale in generale. La storia di treppiedi inizia nel 2018 quando appunto abbiamo notato, abbiamo seguito attraverso delle fototrappole che sono degli strumenti che ci permettono di spiare un po' quello che è il mondo degli animali selvatici senza disturbarli. E nel 2018 appunto apparve questo branco di lupi, questa famiglia ci piace chiamarla, di otto esemplari che è un numero comunque abbastanza cospicuo per il nostro territorio, parliamo sempre appunto dei monti Sibillini e a capo di questa famiglia c'era appunto treppiedi, quello che sarebbe diventato poi treppiedi. C'è un maschio alfa, quindi il capo insomma di questa famiglia che conduceva il branco in giro per le montagne. Poi tutto insomma la storia di treppiedi iniziò in realtà nel 2019 quando ebbi un incontro diciamo più unico che raro con questa intera famiglia di lupi. Quindi ero in un giro insomma di io, mi occupo di fotografia. Non hai avuto paura? Pur essendo sicuramente attirato da un'occasione più unica che raro. Esatto, nonostante ecco abbia letto, mi sei informato su quest'animale che è un animale bellissimo ma di cui l'uomo non deve appunto temere, non deve aver paura. Chiaramente trovarsi di fronte a una famiglia intera di lupi, parliamo di otto individui, è un'esperienza che rimane e le emozioni provate sono state tante. Chiaramente io ho immortalato questo avvenimento che poi ho raccontato anche in un libro che si chiama Dentro una nevicata, edito da Giacone Editore. E tornato a casa appunto visionando le foto mi sono accorto che treppiedi appunto il capo branco aveva nella zampetta posteriore sinistra un laccio metallico. Quindi un impedimento, la teneva sospesa insomma. E andando poi a zoomare la foto ci siamo accorti che presentava un laccio metallico di provenienza da indubbiamente umana e probabilmente uno di quei lacci che mettono i bracconieri appunto per catturare qualche tipo di animale. Certo. E poi come siete intervenuti? Abbiamo subito avvertito il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e i tecnici che hanno valutato un attimo, hanno studiato questo caso e hanno ritenuto per il momento di non intervenire, perché comunque cercare di catturare un lupo è una cosa molto difficile anche per gli esperti tecnici del parco. E la storia di treppiedi insomma poteva anche finire lì. E invece? Infatti per un anno non abbiamo avuto più notizie di treppiedi. Finché un giorno al nostro occhio nascosto appunto riappare treppiedi, quindi questo lupo con questa zampetta ferita e purtroppo non era più a capo di questa famiglia, di questo branco. Quindi aveva perso quello che era un po' la gerarchia all'interno della famiglia. Era stato cacciato insomma, non era più in grado di procurarsi il cibo e quindi era stato allontanato dalla famiglia. E questo da una parte siamo stati felici di rivederlo ancora in discreta salute e dall'altra parte probabilmente si temeva per un futuro molto molto impegnativo per treppiedi, se non addirittura poteva essere spacciato, perché una manovazione del genere non permette al lupo di procurarsi il cibo in maniera autonoma e quindi diventa una cosa... Certo, lo rende debole, come no? Certamente. La storia continua perché dopo qualche mese, parliamo del 2021, ho avuto la fortuna ancora una volta di imbattermi in treppiedi. Ho notato in lontananza questo lupo camminare nella neve e ancora una volta con il mio teleobiettivo mi sono accorto che questo lupo aveva perso addirittura la zampetta. Quindi ho riconosciuto subito l'individuo e mi sono accorto che quella parte della zampa che era stata costretta da questo laccio era caduta praticamente. Chi sa però, magari se si fosse intervenuto prima... Eh, chi lo sa, questo è... Non è semplice capirlo, sicuramente la natura ha fatto il suo corso e il lupo ha dimostrato ancora una volta la sua adattabilità. E a quel punto però è stato... A quel punto è nata questa storia appunto di questo lupo che nonostante questa costrizione era riuscito a sopravvivere nella natura e ancora era in vita. E già era una storia insomma da raccontare, che valeva la pena raccontare e così abbiamo fatto sul nostro sito. E poi per un altro anno di treppiedi non se ne seppe più nulla. Finché un giorno ricevo una chiamata di Federico Morandi che è il tecnico veterinario del Parco Nazionale di Monti Sibillini e mi chiama dicendomi guarda Stefano, abbiamo durante le operazioni di monitoraggio che sono delle operazioni che il parco in maniera annuale fa per tenere insomma sotto controllo e studiare questo stupendo animale che è il lupo è un'operazione in cui catturano un animale con delle trappole chiaramente innocue ne costatano insomma la salute e poi lo dotano di un radiocollare che emette un segnale per cui ci permette di seguire questo animale. e Federico appunto mi ha chiamato e mi ha detto Stefano guarda abbiamo catturato un lupo a cui manca la zampa posteriore sinistra sicuramente si tratta di treppiedi e lì è stata per noi un'emozione sapere che appunto questo animale era ancora in vita e per più di un anno era sopravvissuto. e la cosa ancora più unica è stata constatare con il parco che una volta che questo lupo è stato radiocollarato nei cinque mesi a seguire quindi parliamo dell'inverno scorso insomma questo lupo abbia percorso circa 750 km in cinque mesi quindi non solo era sopravvissuto, non solo era resistito ma ha fatto molto di più e quindi questa storia è diventata un po' un simbolo di quello che è prima di tutto la particolarità di questo animale e poi è anche un po' un simbolo per tutte le popolazioni. Tu ti sei un po' affezionato a lui secondo me. Sì, sono molto affezionato. Penso che questa è una storia che valga la pena di leggere e vorrei ricordare il tuo libro Dentro una nevicata che hai qui con noi, anzi se posso prenderlo. Come no? C'è anche, guarda, c'è anche la foto dello sfortunato treppiedi. Beh, sfortunato ma grandissimo, grandissimo amico che può insegnarci davvero tanto perché diciamoci la verità non vediamo da un periodo facile e ci siamo ancora dentro e questa invece è una storia che può, come dire, darci, da cui trarre ispirazione per affrontare le nostre difficoltà e superare anche i nostri limiti come ha fatto treppiedi che non è solo riuscito a sopravvivere nella natura ma a percorrere una lunga distanza nonostante dotato di sole trizzante, no? Esatto, esatto. Infatti appunto l'abbiamo voluto far diventare il simbolo di quello che è la resilienza, la resistenza di tutte le popolazioni che vivono a Pennino, sia umani che animali e forse ecco ogni tanto dare un occhio, prendere ispirazione da quello che il mondo naturale ci offre sarebbe una cosa sicuramente positiva. Infatti due parole sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sì, è il Parco Nazionale Monti Sibillini è quest'area protetta che abbiamo la fortuna di avere qui a pochi passi che ci permette con un po' di fortuna, un po' di pazienza, di ammirare sicuramente dei bellissimi paesaggi ma anche la fauna selvatica come noi cerchiamo in maniera non invasiva di studiare, di divulgare, di promuovere attraverso appunto la nostra associazione che è l'Occhio Nascosto dei Sibillini. Ecco, come si può contattare questa associazione? Quali sono le iniziative, le prossime perlomeno che avete in mente di portare a termine? Allora, l'Occhio Nascosto dei Sibillini innanzitutto è un'associazione che si occupa di promozione e valorizzazione del mondo naturale e della fauna selvatica. Abbiamo all'interno del nostro team dei professionisti del mondo della natura da educatori ambientali a guide ambientali escursionistiche fotografi naturalisti e quindi seguendoci sulla nostra pagina Facebook si possono vedere sia i video che ogni tanto appunto riusciamo a catturare all'interno dei boschi del nostro appennino e sia le attività che facciamo principalmente di attività escursionistiche. Stiamo vedendo proprio il vostro portale, la vostra squadra non so se è completo oppure no ma comunque sicuramente una delegazione ufficiale dell'associazione. Senti, è corretto dire che con questa pandemia si è riscoperto il valore alto dell'ambiente, della natura? Oggi si parla tanto di ambiente sembra quasi il tema che va di moda passami questa espressione però è così, no? Un tema cavalcato oggigiorno anche per la crisi energetica in atto ma a parte questo insomma durante la pandemia tutti noi ci siamo così spinti per ritrovare il rapporto con la natura che si era un po' perso, no? Sì, è vero come hai detto te è un tema molto sentito durante la pandemia c'è stata una sorta di riscoperta del mondo di quello che è il mondo naturale quello che ci teniamo sempre insomma a raccomandare è che comunque l'approccio al mondo naturale ha delle sue regole delle sue dinamiche quindi bisogna sempre rispettarlo prestare attenzione a determinati luoghi in qual periodo dell'anno poi si va a fruire questi luoghi e rispetto appunto del mondo che in quel momento ci sta ospitando E anche affidarsi a chi ne sa più di noi e che conosce quell'ambiente è sempre buona cosa affidarsi a chi conosce il territorio Senti, la tua passione come è nata? La mia passione è nata più di dieci anni fa appunto unendo l'amore per la natura per gli animali e per la fotografia quindi è nato prima questa passione e sono diventato fotografo naturalista e poi forse con anche ci mette un po' di pigrizia l'idea di piazzare delle fototrappole per spiare gli animali all'interno del bosco senza disturbarli per spiarli appunto a fin di bene Esatto Ecco, tra le mani che cosa hai con te? Perché vorrei mostrarlo ai nostri telespettatori spiegarlo di cosa si tratta? Allora, questa è una fototrappola ovvero una semplice macchina fotografica integrata all'interno di una scatola che è verde appunto per mimetizzarsi nell'ambiente e con dei sensori di movimento quando l'animale si trova a passare davanti a questa fotogelula la macchina fa delle foto, fa dei video tutto questo appunto rispettando quello che è l'animale e il disturbo della fauna selvatica Beh, comunque si può sapere moltissimo è una grande opportunità questa che consente anche di attivare un monitoraggio che poi ci offre tanti spunti e tante informazioni Esatto, tre piedi non avremmo mai conosciuto senza l'ausilio di queste fototrappole quindi assolutamente sì Beh, allora, noi ti ringraziamo vorrei ricordare ancora una volta il tuo libro Dentro una nevicata dove lo si trova? Lo si trova in tutte le librerie della zona e anche su internet sul sito di Ciacone Editore Immagino tu speri di incontrare nuovamente Speriamo che la storia va avanti appunto e non finisca per adesso Magari con il branco Magari, perché no? Tutti insieme Grazie, grazie davvero al nostro ospite per essere stato con noi Grazie ancora Grazie a voi Veramente una bella storia da cui trarre spunto per ricordare quanto è importante il nostro ecosistema e per trarre ispirazione onde poter superare le avversità con forza, coraggio e resilienza come ha fatto il lupo tre piedi il lupo dei Sibillini Grazie ancora La puntata è finita vi ringraziamo per essere stati con noi vi diamo appuntamento a domani la mattina torna puntuali alle nove del mattino quindi non mancate vi lasciamo in compagnia della programmazione che prosegue sulla nostra rete arrivederci grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti